Un modo per celebrare l'8 marzo lontano dai luoghi comuni e dal consumismo spicciolo. Questo è l'intento di Zero Mimose, iniziativa Aspettando l'8 marzo, una proiezione rivolta alle scuole. A fare il vino dei di casa, Alessandra Clemente. Sta a noi ragazzi valorizzare o banalizzare gli appuntamenti che hanno determinato quello che oggi noi siamo. L'8 marzo è un giorno come questo, cioè sono partiti da Chicago i Women Day ed erano le donne benzina di un cambiamento culturale. E pensa che noi oggi diamo per scontato essere pagate durante le ferie o durante la maternità, ma queste sono delle battaglie dei diritti. Quindi la voglia è voler consegnare alla città di Napoli e lanciare al messaggio un messaggio di non consumismo, ma di valori e lo facciamo partendo dai ragazzi, perché i ragazzi sono il carburante serio della nostra città, sono il carburante serio dei paesi. La cosa bella è che i licei e gli istituti che sono intervenuti qua, grazie alla disponibilità delle loro professoresse, saranno poi i protagonisti di questi due momenti che vedete alle mie spalle, che saranno alle 10 e 30, al Caffè Gambrino, e alle 19 al Circo Locandottieri. Sessore, vedo queste sedie qui così, non c'è barriera tra le istituzioni e i ragazzi. Esatto, non c'è barriera. La cosa sulla quale stiamo lavorando tanto è la fiducia, sai perché alcune volte i ragazzi non si fidano dell'istituzione, la sentono normale. Il sindaco ha voluto una ragazza di 25 anni assessore, segno che le cose cambiano perché forse 5 anni fa nessuno l'avrebbe detto e le cose che devono cambiare sono soprattutto i metodi. Quindi noi stiamo in cerchio, parte tutti, dello stesso cambiamento che vogliamo.